Ben trovati e bentrovate da Andrea Cartotto, nuovo videocorso, lo avevo in cantiere da un pochino, che risponde ad una domanda ricorrente soprattutto in questo periodo conclusivo dell'anno scolastico rivolta a mi spesso da cari colleghi e colleghe, come realizzare e creare una pubblicazione, un libretto sfogliabile, cioè il cosiddetto flipbook. La risposta non può essere univoca, mi viene ad esempio in mente anche un applicativo web, che ho trattato qui sul mio canale YouTube, fate una breve ricerca, Genial Lie, che in qualche misura già serve per creare un flipbook, ma ho scelto per semplicità ed efficacia la risorsa web che stiamo osservando insieme, il sito di riferimento è flipbookpdf.net, risorsa free che ci permette, scegliendo un file di partenza in pdf, che non superi le 40 pagine, attenzione, di ottenere un flipbook sfogliabile. In fondo alla home page del sito che state vedendo, c'è anche la voce privacy policy per cui viene trattato il tema della ottemperanza ed in quale misura regolamento europeo per le privacy. Allora, come partiamo? Facciamo un clic sul pulsante grigio scegli file e gli diamo in pasto, lo avevo già preparato insomma, un file in pdf. Nel mio caso già so che questa è una rivista perché è il numero 2 dell'anno 11 della rivista Bricks, molto nota nel mondo della scuola e dell'educazione, supera le 40 pagine e quindi lui creerà un flipbook fermandosi poi alla quarantesima. Clicco su convert now e non faccio altro che attendere. Attenzione, il flipbook verrà condiviso con i destinatari, quali ad esempio gli alunni, come link. Tale link potrà essere abbreviato e personalizzato con il servizio bitly, bitly con la y finale che tratto sempre qui sul mio canale. Oppure ancora potremo rendere disponibile per gli altri anche il download del pdf, perdendo l'aspetto dinamico del flipbook. Vedete che inizia il processo di conversione ed elaborazione delle pagine, che è anche piuttosto veloce. Io in questo momento vi parlo utilizzando una connessione in fibra, ma il testo l'ho effettuato anche con altra tipologia di connessione. I tempi non sono così dissimili. Quando arriveremo al limite massimo consentito dalla versione free, ce lo dirà con un messaggio a video. Osservate, non manca molto. Nel frattempo inganno l'attesa, no? Anche con un intermezzo quasi musicale, così strappiamo un sorriso. Guardate ora che cosa accade. Versione limitata a 40 pagine. Stop. A questo punto cosa fare? Allora consiglio. Nel campo enter email inseriamo il nostro indirizzo email, clicchiamo su send. Ci verrà inviato sulla nostra casella di posta non il link per diffondere il flipbook agli alunni che è questo qui, da copiare e custodire, ma il secondo link che vado a cliccare che è quello per personalizzare un pochino il prodotto, il nostro libretto. In che senso personalizzare? Allora, io posso inserire qui delle etichette. Vi ripeto, qui ho preso il numero 2 della rivista Bricks perché è il numero dedicato alla valutazione, ai quiz, alla gamification, dove oltre ad autorevoli colleghi di tutto il nostro paese, c'è un mio contributo su PanQuiz, l'applicativo made in Italy per quiz e verifiche. Metto alcune etichette per facilitare eventualmente anche poi la consultazione e la indicizzazione di questo libretto, per cui cartotto virgola, Bricks virgola, gamification e così via. Flipbook title, almeno vediamo anche dove appare sullo schermo. Rivista, Bricks, la valutazione, ma potrebbe tranquillamente essere progetto di fine anno IC Leopardi, decidiamo noi. Le funzioni company logo, vedi un logo in più da mostrare nella pagina web, non sono disponibili nella versione free, ma tutto sommato non ci interessano, anche perché logo in testazione della scuola posso già averle nel pdf di partenza. E se è un lavoro dei ragazzi mi faccio inviare il pdf da loro creato, a meno che io non lo abbia già in un contenitore repository quale Google Drive e poi lo converto. Interessante è mantenere o meno l'indicatore per sfogliare la pagina, page slider, show, lo lasciamo, mostra. Social icons, voglio delle icone eventuali per incentivare la condivisione ulteriore, ma magari clicchiamo su hide, le nascondiamo. Suono del flip, l'azione con cui ho sfoglio la pagina, lo lascio, yes. Flip direction, noi di norma sfogliamo così, ve lo mostro in camera, da destra alla nostra sinistra, va bene. Voglio che sia possibile effettuare il download in pdf della mia pubblicazione, se lo desidero lascio su yes, se non lo desidero imposto su no. E quindi proteggo in qualche misura ancora di più il flip book. E vedete, qui c'è l'anteprima, che in alto il pulsante pdf infatti non lo ho. Poi, attenzione bene, clicco su uno sfondo per il flip book, uno scuro io quasi ve lo consiglio in base poi a sfondo e contenuti delle vostre pagine. Questo cursore rotondo serve per dosare l'opacità. Allora, attenzione bene, a questo punto in realtà clicco su save changes, quindi salvo i cambiamenti, clicco su ok, ho la conferma dell'avvenuta operazione, non mi resta che cliccare su view your flip book, così da riscontrare insomma ciò che i miei destinatari ed alunni potranno guardare e sfogliare. Infatti ho il mio libretto, guardate, c'è anche un angolo che compare qui, il page slider, ma in realtà lo ho anche a lato, clicco, mi taccio, così vi faccio sentire il rumore digitale che normalmente ci accompagna in vesta analogica quando sfogliamo le pagine di un libro. In alto a destra abbiamo ancora le frecce di navigazione che sono un ulteriore modo per sfogliare il nostro flip book e poi abbiamo invece dei pulsanti a corredo che sono quelli per avere in modalità full screen, dunque ancor più a schermo intero di così, il nostro libretto sfogliabile. Consiglio, è vero che abbiamo in alto ora l'URL del nostro libretto, però intanto mi dovrei riportare quantomeno a pagina 1 per condividere questo URL, ma in realtà scorrete all'indietro il videocorso, ad inizio videocorso vi consiglio di mettere da parte subito il flip book URL appena il sistema lo genera, oppure ancora lo prendiamo subito e lo rendiamo. Shorten, quindi più corto e personalizzato con il servizio di fama mondiale Bitly, Bitly con la Y finale, che trovate sempre qui trattato sul mio canale YouTube Trainer Andrea. Non mi dilungo oltre, lascio a voi la prova pratica su strada, sarà bello vedrete ed anche accattivante creare un flip book, dunque un caro saluto a tutti e a tutte da Andrea Cartotto e sin d'ora vi do appuntamento al prossimo videocorso. Ciao!